È chiusa al pubblico dallo scorso 6 novembre e riaprirà solo in occasione del taglio del nastro dell'edizione 2023 della città del Natale. Parliamo della Fortezza Medicea di Arezzo, da qualche anno a questa parte sede di alcune iniziative legate appunto al Natale. Sono dunque in corso tutti gli allestimenti, anche quest'anno diventerà la Fortezza delle Meraviglie, che comprenderà il tradizionale presepe a grandezza naturale, il planetario, il muro parlante, il villaggio del Polo Nord con i suoi animali giganti. E poi lo specchio magico, l'area selfie con la slitta di Babbo Natale e gli elfi, il villaggio di Natale in miniatura, i giochi di luce e altre sorprese. In questa versione natalizia la Fortezza aprirà i battenti il 18 novembre e resterà aperta fino al 6 gennaio, ma non tutti i giorni. Cancelli chiusi il lunedì, il martedì, il mercoledì e il giovedì mattina, insomma gli orari della città del Natale. L'ingresso, come sempre, non sarà gratuito, ma sarà possibile la prenotazione.